Voglio ridare speranza agli italiani di centrodestra che sono disillusi. Con un progetto serio e concreto, il no all'immigrazione, il no a questa Europa, a questo Euro, il no alla politica delle tasse, l'aumento dell'IVA di Renzi, l'Italia può ripartire senza Renzi e quindi la Lega è un piccolo strumento a disposizione di tutto questo. Spero che Berlusconi capisca che bisogna guardare avanti e non guardare indietro.